Grazie a tutti Ma si sente la mia voce Di cosa serve quell'applicazione? Per fare i video Che video? Sì, tu Tu non fai Perché solamente perché Non fuggire la spiglia Ecco Perché a 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 troppo da a 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 stai dicendo che è piccolo da 50 anni ci gioca si ci gioca perché ma non ha rocket però beh per me a 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 ma sta facendo un video dove è il tuo telefono rosso? il mio? io non avevo un telefono in camera ma io non lo posso guardare perchè? la mamma dice no non so perché la guarda la guarda la guarda va bene bravo bravo grazie grazie vieni su mettere il costume perchè così se andiamo in quel posto che ci sono i delfini se puoi fare il bagno sei già pronta se non fai il bagno con le mutandine non lo so vediamo hai voglia di finire? metterti il costume? no non lo posso mettere là no come vuoi tu però devi venire su a pettinarti e farti la coda mamma guarda è pettinato per piacere vedi fare la pipì posi questo posi questo vieni questo qua mamma non è consiglio di ascoltarmi vedrai se non c'è solo quando volete volare ahhh tu che vedi? mamma e tu cosa stai facendo? e tu cosa stai facendo? vedrai ovviamente ci sono le educazioni e lì c'è la fermata da un uomo più del medio mare lo prendete prendendo la solida e lì c'è la fermata che stia pilato da lì non è più più dura la porta è vero non c'è però però ci sono le educazioni che c'è arrivata ma è molto più forte grazie va bene qua qui puoi non c'è ma si è solo quella è un po' no c'è un po' è una risposta piazza non si è lunga sentiamo saranno al 26 per farlo a quanto County è un po' bene lì c'è un po' lì c'è un po' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.